Bella a tutti ragazzoli e benvenuti in questo nuovo video, sono Maullo941 e oggi siamo tornati su Minecraft, signori, episodio numero 10, se non sbaglio, sì, più o meno, sì, ci siamo, ci siamo, siamo tornati su Minecraft, signori. Allora, prima di partire dal video, io vi ringrazio per i like, per i commenti, per i suggerimenti e per il supporto che date alla serie e al canale. Vi ricordo di seguirmi sui social, mi trovate sia su Facebook che su Instagram, dove tramite i social vi aggiorno su quando escono i video e su quando siamo in live. Vi ricordo di condividere il video con tutti i vostri amici e così espandiamo il canale. E ultima cosa, date un'occhiata ai link in descrizione che trovate varie funzionalità per aiutare a supportare il canale e seguirlo sempre. Dettagli, signori, non perdiamo altro tempo e partiamo con il video. Una candela? La volete una candela? La vuoi una candela? Le patate! Ok, signori, allora, cosa facciamo in questo video? Nell'ultimo video abbiamo costruito il portale, che abbiamo fatto una sorta di... Aia, aia, aia! Mi sono bruciato da solo. Iniziamo benissimo. Mi ho fatto il portale come se fosse, tipo, vedete, abbandonato qui da tempo. Infatti, come se la sabbia l'avesse ricoperto da un lato. Io già ho perso una cosciotta perché mi sono bruciato. Va bene, superfluo. Come se fosse, tipo, vedete, che la sabbia l'avesse ricoperto da questa parte di qua. Infatti, domani dovremo andare a cercare le liane per riempirlo tutto con le liane e tutto cosa carina. Oggi, signori, come avete letto dal nome del video, andremo alla ricerca... Attraverseremo il portale. Che cazzo lo sto dicendo? Sono un attimino rincretinto, signori. Attraverseremo il portale. Ora, se vedete che ogni tanto mi spuntano gli obiettivi, come quello in alto a destra, è perché ho avuto un problema col computer. Ho dovuto resettarlo completamente, ho reinstallato Minecraft e quindi praticamente mi ha cancellato tutti gli obiettivi che avevamo fatto. Quindi, vende, tutte le ricette le abbiamo perse tutte. Vediamo se qui le nostre mucchine ci hanno fame. Prima di partire all'avventura, mucchine, ci avete fame? Ci avete fame? Sì, ci hanno fame. Dai, dai, dai. Magnate. Riproducetevi. E siamo tutti belli contenti e carini. Dai. Non mi porterò le mucche, signori. Dobbiamo fare un ponte da questo lato. Mi sono rotta la palla di fare il giro sempre da quel lato. Dobbiamo fare un ponticello da questa parte. Allora. Noi non siamo nelle condizioni di poter andare in un'esplorazione del Nether, ma ce ne fottiamo altamente, signori. Proprio come se non ci fossero domani. Allora, se non sbaglio devo avere il cibo da qualche parte, ok? Posiamo i semi che non ci interessano. Abbiamo i salmoni cotti? Ah, già avevo i salmoni cotti. Ce li teniamo solamente questi 12, sì. Ci portiamo un poco di più di terra, io direi. Intanto magnate un panino. Dai, magna, magna, magna. Ok. No, la torcia lì non mi piace. Magnate un panino. E qui, se non sbaglio, dovremmo avere... Portiamoci un altro po' di terra, sì. Tutta quella che c'entra ce la portiamo. E un po' di legno. Un po' di pietra ce la portiamo pure. Riempiamo massimo. E un po' di legno me lo porterei pure, signori. Anche perché non so quante torce abbiamo. Quindi, vediamo di fare un po' di cose fatte bene. Fatte bene. Abbiamo 27 torce. So pochine per andare nel Nether. Noi, l'importante, signori, che dobbiamo fare due cose fondamentali. Uno, prendere le coordinate di casa nostra. Prendere le coordinate di casa nostra. E soprattutto, prendere le coordinate del portale quando spawniamo. Perché io voglio andare alla ricerca della fortezza. Ma non ci dobbiamo perdere, signori. Perché se ci perdiamo è finita. Ok, quindi, prima cosa. Recuperiamo le coordinate di casa nostra. Lo faccio in video così, signori, un domani dovessi perdere il foglio dove lo sto a scrivere e posso recuperare, tramite questo video, le coordinate di casa nostra. Quindi, x uguale 107, 107, y uguale 63. Non so quante coordinate avrò prese in vita mia, signori. E z uguale 54. Queste sono casa. Perfetto. Avrei potuto fare una fotografia, ma sapete, ormai, telefonini si rischia sempre che uno il giorno dopo si spaccia e si rompe. E quindi è finita. Bene, signori, il momento è arrivato. Noi abbiamo, noi abbiamo il cavolo, abbiamo. Perché dobbiamo andare nel Nether. E nel Nether mi serve quantomeno un indumento d'oro. Se no, i pillager, o come cavolo si chiamano, ci fanno nuovi. Quindi abbiamo bellissimi scarponcini. Abbiamo altro oro nella miniera, signori. Quindi se un domani dovessimo morire, cosa che succederà subito, penso. L'oro lo possiamo andare a recuperare. L'oro lo possiamo andare a recuperare. Signori, il momento fatidico è arrivato. Siamo pronti. Stiamo carichendo. Ragazzo, allora, sto andando. Sto andando dal lato sbagliato. Ok. Torniamo verso il portale. Rapidi, signori. Tartaruga, fammi le bocca al lupo. Chissà, se mai rivedrò questa tartaruga, tornerò da spirito secondo una nuova vita. Siamo pronti? Qui mancano dei blocchi di sabbia. Cazzaro, l'ho fatto una gran cagata. Va bene, lo vedremo un'altra volta, signori. Siamo dentro. Si va, si va, si va. Speriamo che la vada bene, signori. Incrociamo l'ingrociabile. Ok. Ok. Ci siamo. Ok. Allora, non si vede assolutamente una cippa di nulla. Non vedo assolutamente. Da sotto c'è uno scheda. Aspettate, facciamo una cosa. Con il rischio che perdiamo un attimino di potenza grafica. Ma chi se ne fa ricassamente? Aumentiamo i shank perché... Ok. Adesso iniziamo a vedere. Cioè, il ghast vicino al portale, guarda, proprio era la cosa che... Più lì si sta girando la lava. Ok. Là c'è la sabbia, là c'è dell'oro. Bene, ma non benissimo. Siamo sopra una pozza di lava. Questa cosa non mi piace per nulla. Non mi piace per nulla. Aspettate, devo un attimo abbassare i shank perché sennò... Ok. Cerchiamo un attimo di capire. Cerchiamo un attimino di capire. C'è poco da capire. Non abbiamo... Non siamo completamente isolati. Iniziamo a mettere delle torce così si inizia a vedere qualcosa. Cerchiamo di capire. Io sento dei ghast ma non li vedo. L'importante è che non ci sono quei maiali terribili che mi stanno proprio... Di un antipatico assurdo. Allora. Siamo calmi. Cerchiamo intanto di capire... Illuminiamo tutto. Ok. Quindi casa nostra è stata illuminata. Di qua c'è una strada? No. No! No, 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 signori. Cazzo, il ghast è così subito? No, però... Il ghast è così subito? No, non c'ho neanche le frecce. Questo mi ammazza. No, 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 no. Via, 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 via. Andiamo via velocemente. Andiamo via velocemente sperando che rispawnando questo se ne vada. No, il ghast è subito così? No, non c'ho manco un arco alle frecce. Non c'ho... No, forse aspettate. Forse le frecce ce le ho. Fermi, fermi, fermi tutti. Fermi tutti. Delle frecce ce le dovrei avere. E un arco lo possiamo anche fare. Calma, calma il sangue freddo. Calma il sangue freddo. Possiamo, possiamo, possiamo farcela. Possiamo fare. Il ghast subito lì è una cosa terribile. Però possiamo affrontarlo. Ok, signori. Ho fatto un arco con le uniche tre cordicelle che avevamo nel nostro magazzino. Però ce l'abbiamo fatta. Ho dieci frecce. Quindi siamo morti, praticamente. Se quel ghast rompe ancora le scatole siamo morti. Io l'unica cosa vorrei uccidere quel ghast. E vista la pericolosità della zona fare una copertura al mio portale? Perché se... Eccolo. Guardalo, guardalo. Famolo fuori, famolo fuori subito. Vai! Ottima mira. L'ho preso. Ottima mira. Mi ha detto ottima mira. Bastardo, devi morire. No! Dove cazzo l'ho tirato? No, 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 no. Uuuuh! Questo è un problema, signori. Questo è fottutamente un problema. Questo è... Oh mio Dio, come me ne vado io da qua. Questo è un cazzarola di problema. Allora, il ferro ce l'abbiamo. Non abbiamo oro. Non abbiamo oro. Non abbiamo oro. Dobbiamo cercare di scambiare... Non abbiamo la selce. Allora, stiamo calmi. La selce la possono trovare. Il ferro ce l'ho. Calma, calma, calma. Non facciamo principi... Non ci... No, vabbè, dai. Ma che stiamo a scherzare? Ma porca miseria. Allora, stiamo calmi. Mi serve... Mi serve la gravel. Mi serve la gravel, signori. Imprevisto, imprevistissimo. Mi serve la gravel. Plichiamo le coordinate. Perché dobbiamo risolvere il problema subito. Non voglio cambiare l'inquadratura. Ma porca. Allora, coordinate subito. Coordinate subito. Quindi qui spavano i gust come se non ci fossero domani. Perfetto. Quindi x uguale 10. Y uguale 57. Perfetto. Z uguale meno 4. Ok. Calma. 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 Questa inizia di nether non è dei migliori. Ma non ci abbatteremo, signori. Non ci abbatteremo. Non ci abbatteremo. Anzi, vi dico di più. Per questo video ci fermiamo qua, signori. Per questo video vi lascio col punto esclamativo se riusciremo a tornare nel nostro mondo oppure no. Signori, io per questo video vi lascio qui. Vi lascio con la colina in bocca. Dei tuoi signori, grazie per i like, per i commenti, per i suggerimenti. Non si sa se cambieremo vita e diventeremo anche noi dei mostri che vivono qua nel nether o se riusciremo a scampare e a tornare vivi nel nostro mondo. Dei tuoi signori, grazie per i like, per i commenti, per i suggerimenti. Noi ci vediamo sempre qui sul canale per un prossimo video. Bella raga. Ciao. 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 Ciao.